salve gente e benvenuti sul canale di di trasporto parfum io sono alexander e vi do proprio il benvenuto proseguiamo questa serie con i profumi dedicati alle vacanze estive vi ho già parlato delle ferie al mare vi ho parlato appunto per i più trasgressivi dei profumi da portare al lago quindi 5 profumi per il lago e oggi con questo video parliamo di 5 profumi da portare in montagna la montagna dicono che non è una cosa per tutti e quindi ho voluto portare dei profumi un pochino sofisticati dei profumi sicuramente non facili da indossare la montagna non è un luogo che visitiamo solo in estate la montagna ce la godiamo tutto l'anno perché la montagna è con lei che ci fa star bene con lei che ci placa che ci rilassa e dato che questo sarà un video abbastanza lungo facciamo partire la sigla ed eccoci qua mettetevi comodi e godetevi queste cinque fragranze non dobbiamo andare a fare nessuna scalata sarò io che vi trasporterò proprio sopra la cima di una montagna quindi porterò proprio 5 profumi che saranno da sentire con tutta tranquillità 5 profumi che non sono facili da indossare ma potranno essere la vostra signatura partiamo subito con la prima vi ho detto appunto questa frase che molti dicono che non è per tutti e infatti prin non fa propriamente profumi per tutti sto parlando proprio di prin lomros è già abituato alla sua firma olfattiva con ma in un quindi cosa aspettarsi dall'ultima referenza di azman ce l'ho qui con me vi parlo della prima ovvero naked forest naked forest quindi è l'ultima referenza di azman la novità proprio del 2024 e cosa poteva aspettarmi da prin sicuramente un profumo sofisticato la prima volta che l'ho sentito su pelle mi ha lasciato quasi perplesso perché non ho ritrovato la sua firma olfattiva intensa diciamo quella abbastanza pronunciata no mettiamola un po così però poi ho capito la struttura del profumo una struttura molto interessante a mio avviso perché l'apertura ci trasporta proprio in montagna infatti respiriamo dell'aria fresca intensa unito delle note metalliche salate è una fragranza non dico che sa di sotto bosco comunque è leggermente umida e questa nota umida la troviamo grazie anche alla rugiada personalmente io sento delle note verdi delle note verdi intense di foglia se vogliamo unite a delle note metalliche e leggermente salate e poi c'è una nota che io sento fin da subito ovvero la nota dell'iris l'iris un po' polveroso incredibilmente riconoscibile in questa fragranza successivamente poi nell'evoluzione e questo profumo ha una grandissima e bellissima evoluzione troviamo anche delle note fruttate come se stessimo facendo proprio un giro nel bosco infatti troviamo l'uva l'uva spina dei frutti di bosco che sentiamo proprio intorno a noi come se noi fossimo avvolti da questi ultimi e alla fine proprio nel dry down una leggera nota di mango tutto circondato da delle foglie di tè forse le foglie di tè le sentiamo già all'apertura perché capto questa nota verde molto boschiva ma non mi trasporta principalmente in un bosco che sa proprio di sottobosco quindi quel bosco più umido tutte queste note olfattive sono a volte da delle note resinose un po' fumose le troviamo infatti grazie a del vetiver ed alcune note incensate comunque sono molto cremose a volte dall'olio del sandalo e poi si aprono come se raggiungessimo la cima della montagna infatti troviamo delle note montane dell'aria fresca comunque alla fine e troviamo anche dell'ambra grigia che comunque nel complesso rende questa fragranza molto aperta soprattutto nel dry down comunque naked forest è un profumo strutturato brillantemente è un profumo che si lascia portare bene e vi posso garantire che non è assolutamente difficile dovete ovviamente capirlo e dovete avere un naso leggermente allenato personalmente non me lo aspettavo così me lo aspettavo ancora più intenso più strong come profumo però quello che mi è piaciuto è proprio l'evoluzione ma adesso proseguiamo con una bellissima fragranza rinfrescante vi trasporto in montagna e questo profumo è proprio adorabile qualora andiate in montagna in estate è perfetto proprio per questa stagione perché vi porta il sentore della montagna l'area fresca della montagna ma su pelle sto parlando proprio di nord du nord di Wienerblut bello fresco mentolato la nota di ecolipto che sentiamo fin dall'apertura fino a trovare delle note sempre verdi infatti troviamo la nota dell'abete la nota dell'abete unita delle note muschiate un profumo che mi fa respirare l'area pura della montagna ecco questa fragranza è perfetta per chi cerca un profumo fresco un profumo che sa realmente di montagna è veramente veritiero senza però avere delle note agrumate quindi qualora non amiate le note esperidate volete un profumo fresco aromatico beh nord du nord è una fragranza perfetta per voi a me personalmente piace addirittura di più dell'air des alps suisse di handy tower dura leggermente meno ma è incredibilmente veritiera il dry down è molto verde infatti come vi dicevo c'è questa nota di abete incredibilmente veritiera che si sente su pelle ma una cosa che mi è piaciuta è che non perde mai il sentore fresco che troviamo all'inizio perché si sosseguono appunto queste note acquatiche unite delle note aromatiche che a me personalmente piacciono moltissimo e rendono questo profumo sempre ben portabile e adesso proseguiamo il nostro percorso con un profumo che ha dentro la nota di petricore quindi è come se all'improvviso incominciasse a piovere parliamo della sua artisticità signore e signori vi presento pioggia debole di filippo sorcinelli e qui le aspettative di un profumo rinfrescante che sa proprio di natura con delle note di petricore che si lascia indossare alla perfezione già per questo periodo beh sono molto alte qui in questa fragranza è come se arrivassimo nel parcheggio ecco parcheggiamo la macchina e iniziamo questo bellissimo trekking con i nostri bastoncini all'improvviso viene a piovere piove ovunque sull'asfalto nel bosco quindi tutti questi sentori si uniscono si uniscono le note d'asfalto bagnato con le note boschive quindi è come se si unissero uomo e natura infatti si sentono tutte queste sfaccettature di asfalto bagnato unite delle note aromatiche quindi la natura il bosco le sue note legnose le note proprio degli alberi mi fa venire proprio in mente il pino il pino unito alla note dell'asfalto e poi successivamente troviamo queste note belle fresche infatti troviamo delle note acquatiche del limone che comunque creano dinamicità e freschezza all'apertura della fragranza successivamente questa fragranza prosegue con delle altre note legnose dei legni preziosi e del legno di cedro unite proprio dai dei sentori muschiati o anche in questo caso non sentiamo del sottobosco non sentiamo comunque delle note muschiate profonde intense non sentiamo quel terriccio bagnato è un profumo incredibilmente calibrato bene ricorda proprio un'acquazione in piena stagione calda all'improvviso così che batte contro le nostre vetture batte contro l'asfalto per quei 30 40 secondi e poi si placca e va via e noi nel mentre stiamo proprio affrontando questo trekking e poi c'è il dry down nel dry down infatti troviamo delle note resinose unite a del gelsomino e poi una nota incredibile che a me piace tantissimo ovvero il sandalo con la sua cremosità ma l'apertura fresca acquatica con dei sentori di petricore io personalmente la sento fino al dry down e questa cosa a me personalmente è piaciuta molto questo profumo dura tanto e per questa stagione è letteralmente perfetto un capolavoro secondo me di filippo sorcinelli a mio avviso la pioggia più bella anche le altre sono molto interessanti provatele ovvero la moderata e la forte ma la debole è la mia preferita e ora proseguiamo vi trasporto in scandinavia ragazzi qua c'è tanto da dire perché vi presento un profumo che sicuramente farà sorridere tanti di voi vi presento meo fushioni con la sua ultima referenza ovvero last season giuseppe imprezzabile a mio avviso ha creato un altro dei suoi capolavori e per me a parlare di note olfattive ciò che sento io in un profumo di meo fushioni è un po' riduttiva come cosa è un po' superflua quindi vi voglio proprio trasportare in un viaggio lontano questa fragranza una volta indossata una volta che la stasiamo ci trasporta proprio in scandinavia siamo in una foresta siamo in una foresta tra la svezia e la norvegia sta incominciando a piovere piove veramente forte e attorno a noi c'è una casa una casa vecchia di legno e sopra di noi questo tetto di legno vecchio sì ma che sta proteggendo proprio dalla pioggia siamo da soli in questo bosco attorno a noi non c'è nessuno eccetto che qualche animale selvatico stiamo osservando fuori dalla finestra se c'è qualcuno nelle vicinanze ma attorno a noi c'è solamente il sentore forte della pioggia ecco in questa fragranza sentiamo letteralmente l'odore di sotto bosco sentiamo tutte le note muschiate qualche animale passa coloro ci fanno capire che ci sono altre forme di vita e infatti tutti questi sentori anche animali ci sentiamo proprio in questa fragranza e poi la cosa che capiamo di più la cosa che capiamo subito è proprio il tabacco infatti io immagino quest'uomo che guarda proprio la finestra mentre fuma del tabacco trinciato il tabacco trinciato è molto importante e super verichiero in questa fragranza e questa cosa io personalmente l'adoro perché in questa casa ci sono tutti questi sentori legnosi molto umidi e poi ci sono altri sentori scuri come appunto il legno di betulla ci sono diverse resine c'è il tabacco del cuoio insomma un uomo desolato in questa casa un profumo incredibilmente realistico stiamo proprio parlando di grandissima artisticità sinceramente ad oggi con queste note è il profumo più veritiero che io abbia mai sentito un grandissimo profumo una grandissima opera d'arte firmata proprio mio fushioni gli altri sentori poi che respiriamo attorno a noi sono proprio il legno di guaiaco delle note algose delle note muschiate il fieno è un fieno quasi bruciato e poi appunto queste note coiate intense l'elicrisio l'erba mate e poi ci sono due note che smorzano un po il tutto ovvero la camomilla che rende leggermente questo profumo più tenue ma non è diciamo incisiva unita al legno di sandalo che dona proprio quel topo di cremosità in più una fragranza con evoluzione tutta sua ma principalmente ci fa restare in questa casa l'ultima fragranza una fragranza spagnola creata proprio da giordi magras una fragranza che ci trasporta in islanda sto parlando proprio di alma stocksness giordi magras con questa fragranza omaggia proprio l'islanda omaggia questo promontorio islandese che si trova adesso parlando proprio di stocksness che con la sua catena montuosa ovvero il vestrahorn ci fa proprio respirare tutti questi sentori principalmente respiriamo le note scure la sabbia vulcanica e un'altra cosa che mi fa respirare questa fragranza sono proprio le condizioni climatiche islandesi perché sono molto forti molto intense sicuramente queste non per tutti sento proprio delle forti raffiche di vento sento questo legno scuro il legno proprio di evano quasi come se fosse immerso nel mare perché questa fragranza a mio naso è leggermente dico leggermente salata e avvolta delle note verdi dal del cardamomo e poi successivamente c'è una nota che smorza un pochino ovvero la nota del miele questa fragranza nell'evoluzione è molto scura resinosa troviamo appunto delle note bruciate calde come se intorno a noi avessero bruciato qualcosa unite delle note muschiate e pepate una fragranza che fino all'evoluzione fino al dry down si porta dietro questi sentori scuri questi sentori scuri li troviamo anche grazie al caffè che è ben calibrato ma si fa notare proprio nel dry down a rendere poi l'evoluzione originale ci sono delle note coiate e la pianta del galbano che comunque si fa notare ed è sicuramente molto immersiva in questa fragranza a mio avviso della linea extra de parfum stocksness il profumo più bello bene queste erano le mie proposte proprio per una gita in montagna dato che la montagna come vi ho già detto non è solamente inverno non è solamente estate la montagna si vive in tutte e quattro le stagioni vi ho dato proprio quattro proposte per l'estate sicuramente nord nord e pioggia debole sono le fragranze a mio avviso che sono più azzeccate se vogliamo per questo periodo poi un po per tutte le stagioni naked forest e la season forse la season è più autunnale quando proprio respiriamo tutti questi sentori di natura e poi stocksness beh lui a mio avviso è proprio una fragranza da indossare nei periodi più freddi perché è la fragranza che ti riscalda un pochino di più anzi è più corretto dire che è la fragranza più coerente con la stagionalità islandese una bellissima isola che ti colpisce ma che bisogna sempre temere proprio per queste condizioni climatiche e alma stocksness è perfetto proprio perché ti mette già dalla sua apertura in guardia quindi sono cinque profumi incredibili cinque profumi strutturati in una maniera eccezionale cinque fragranze davvero uniche ci ho messo tanto tempo anche per fare questa selezione perché volevo portarvi veramente qualcosa di originale quindi spero di avervi stupito qualora fosse così mi raccomando lasciate un like e un commento costruttivo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate in questo video sono stato leggermente più lesto perché volevo parlarvi sì vi 5 fragranze ma volevo che il video fosse proprio più fruibile per tutti comunque iscrivetevi al canale perché ci ho messo veramente l'impegno e per voi è completamente gratuito quindi qualora lo facciate vi ringrazio veramente vi ringrazio di cuore io sono Alexander mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti e a proposito troverete tutti i link di queste fragranze in descrizione io nel frattempo vi lascio un saluto profumato ciao ragazzi